Qual è il momento più esaltante che hai vissuto? Devo essere sincero, quando sono entrato in casa, l'ultimo quarto d'ora, dieci minuti, contro il Milan, che era la mia prima partita che facevo al Ghevis, appena sono entrato che guardavo la nostra porta e noi attaccavamo la nostra curva, mi sono girato e ho visto tutta la curva e ho detto, wow, che stadio, penso sia stato quello più emozionante.